Ben ritrovati dalla redazione di Folles Multimedia e in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna possibili rallentamenti per lavori con corsie di destra chiuse tra Firenze e Imprunete e Firenze Scandici, chiuso lo svincolo di Firenze e Imprunete in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna. Rallentamenti tra Calenzano e l'allacciamento A1 variante in direzione Bologna. Coda per traffico intenso tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. Infipili per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Stassigna possibili rallentamenti e code con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Chiuso per lavori programmati lo svincolo interporto Toscano-Ovest in entrambe le direzioni. Si ricorda che per lavori sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo Siena-Sud in direzione Firenze. A Firenze rallentamenti per presenza di materiale incarreggiata in via Marco Polo. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Legione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie!